Ciao a tutte ragazze, oggi vi presento un prodotto Touch Up, è un correttore di Oral, ovviamente un correttore per la ricrescita dei capelli bianchi e della ricrescita del colore. Quindi, quando comunque tra una colorazione e l'altra iniziamo ad avere una leggera ricrescita, noi lo applichiamo in cute, lo vaporizziamo un attimino, con le mani le diamo un piccolo massaggio e così avremo un effetto senza più capelli bianchi, quindi senza più la ricrescita. In più, per chi di noi comunque soffre di un leggero diradamento, applicato in cute, laddove comunque abbiamo un capello fine e diradato, andrà comunque a togliere il bianco candido della cute e quindi a mascherare un pochino l'effetto diradato, quindi a livello ottico sembrerà che avremo un capello più folto, più corposo. Quindi mi raccomando, provatelo e spruzzatelo, vaporizzatelo in cute e vedrete gli ottimi risultati. Qui abbiamo il dark blonde, quindi un biondo scuro, ideale per le donne che sono sul biondo biondo scuro. Provatelo, grazie.